Giornata di riposo nel campionato di terza categoria. Le prime della classe hanno dovuto recuperare incontri sospesi per covid nelle giornate precedenti. Nel girone E, nel possicipo domenicale, la tiesina si è sbarazzata di sassaresi del Tutubella Santa Maria Regina per 3 a 0, allungando in classifica di tre punti nei confronti dello Sportinguri, che ha una partita da recuperare con Alghero 1945. Le girone EF, Illi Punti, ha vinto fuori casa nel campo della Mudizza contro l'Isola Rossa per 4 a 0, sganciandosi dal terzetto che segue i sassaresi, Saramonte, Andrea Doria e Codaruina. La FIGC, per la giornata di lunedì 28, sta organizzando un pomeriggio di confronto tra società, AIA provinciale e dirigenti federali per programmare le attività di aprile e maggio, tra cui la Coppa Italia. Infine, venerdì 1 aprile, tutti in campo per aiutare il mondo sociosanitario. Infatti, in collaborazione con l'Avis Comunale di Sassari, a partire dalle ore 9 in Piazza d'Italia, la FIGC, Lega Nazionale Dilettanti Sardegna a terza categoria, la FENALC, Federazione Nazionale Liberi Circoli Sassari e il Comitato Centro Storico, faranno la giornata della donazione di sangue. Grazie a tutti. Grazie a tutti